Il Movimento 5 Stelle a tutti i livelli si è sempre espresso a favore della scuola e dell'istruzione pubblica rispetto a quella privata, mentre col voto di ieri abbiamo visto che altri partiti invece questo non interessa e vi spiego perché. Qui si parla di scuole dell'infanzia, di bambini da 3 ai 6 anni che dalla Regione Toscana ricevono tramite il progetto Buoni Scuola dei finanziamenti che passano dai comuni e direttamente alle scuole paritarie, pubbliche e private per tutti i ragazzi che hanno famiglie con un ISEE che hanno una fascia sotto i 30.000 euro. Noi cosa abbiamo chiesto? Abbiamo fatto una richiesta specifica perché ci siamo accorti che queste Buoni Scuole vengono indirizzate per lo più alle scuole paritarie private e vi dico anche i numeri. Nell'anno 2015-2016 sono state erogate per l'infanzia paritaria privata 1.600.000 euro e per gli asili di infanzia comunali 1.350.000. Noi con la nostra mozione abbiamo chiesto che la Regione Toscana si esprimesse a livello nazionale affinché la normativa prevedesse un maggiore finanziamento della scuola pubblica visto che i soldi sono pubblici e devono finanziare prima di tutto la scuola pubblica e poi quella privata che riceve tra l'altro già anche altre sovvenzioni. Abbiamo visto che con la cosiddetta Buona Scuola il Governo Renzi ha previsto ulteriori finanziamenti indiretti per questi istituti pare a circa 400 euro l'anno per ogni ragazzo che frequenta queste scuole. Abbiamo questo impegno alla Regione Toscana, abbiamo chiesto che in qualche modo finanziasse prevalentemente gli istituti paritari pubblici e la maggior parte delle forze politiche in Regione ha risposto no. Ecco perché il Movimento 5 Stelle continua a dirsi l'unico vero sostenitore della scuola pubblica rispetto a quella privata.